Ciao a tutti, bentornati su Attori Aperti, sono Chiara. Oggi vi leggerò un estratto di un signore molto vecchio con delle ali enormi, che è un racconto breve di Gabriel Garcia Marquez. Siamo in un paesino dei Caraibi e una coppia formata da Elisenda e Pelayo trovano questo uomo molto vecchio con delle ali enormi e nel paese si sparge la voce che Pelayo e Elisenda abbiano trovato un angelo. Questa coppia decide di ospitare a loro modo questo signore dandogli riparo nel loro pollaio. La voce si è sparsa e la gente inizia ad arrivare a vedere questo angelo che viene un po' trattato come un animale allo zoo. Questo estratto si trova più o meno a metà della storia, quindi vi invito anche a leggere questo racconto che è molto bello ed è molto facile da trovare su internet. Iniziamo! La notizia dell'angelo prigioniero si diffuse con tale rapidità che nel giro di poche ore c'era nel patio una baraonda da mercato e dovettero far venire la truppa con le baionette per scacciare la folla in tumulto che stava per buttar giù la casa. Elisenda, con la spina dorsale storta da tanto spazzare immondizia da fiera, ebbe allora la buona idea di recintare il patio e far pagare cinque centavos il biglietto d'entrata per vedere l'angelo. Arrivarono curiosi fin dalla Martinica. Arrivò una fiera ambulante con un acrobata volante che passò a razzo varie volte sopra la folla, ma nessuno li fece caso, perché le sue ali non erano di angelo, ma di pipistrello siderale. Arrivarono alla ricerca della salute i malati più disgraziati dei Caraibi, una povera donna che fin da bambina contava i battiti del suo cuore e non le bastavano più i numeri, un giamaicano che non riusciva a dormire perché lo tormentava il rumore delle stelle, un sonnambulo che si alzava di notte a dispare le cose che aveva fatto da sveglio e molti altri meno gravi. In mezzo a quel disordine da naufragio che faceva tremare la terra, Pelaio e Lisenda erano felici nella loro stanchezza perché in meno di una settimana avevano riempito di soldi le camere da letto e la fila di pellegrini che aspettavano il loro turno per entrare arrivava fino all'altro lato dell'orizzonte. L'angelo era l'unico che non partecipava alla propria vicenda. Passava il tempo cercando una sistemazione nel suo nido prestato, stordito dal calore infernale delle lampade ad olio e delle candele votive che mettevano vicino alla rete. All'inizio cercarono di fargli mangiare cristalli di camfora che, secondo la sapienza della saggia vicina, era l'alimento specifico degli angeli. Ma lui li disdegnava, come disdegnava senza assaggiarli, i pranzi papali che li portavano i penitenti. E non si seppe mai se fu perché era un angelo o perché era un vecchio che finì per mangiare nient'altro che pappe di melanzana. L'unica sua virtù soprannaturale sembrava essere la pazienza. Soprattutto nei primi tempi, quando le galline lo becchettavano in cerca dei parassiti stellari che proliferavano nelle sue ali e gli storpi li strappavano via le piume per coprire con esse le loro imperfezioni e perfino i più pietosi ritiravano pietre nel tentativo di farlo alzare per vederlo a figura intera. L'unica volta che riuscirono a farlo arrabbiare fu quando li bruciarono il fianco con un ferro per marchiare i torelli perché stava immobile da così tante ore che lo credettero morto. Si svegliò di soprassalto strepitando in una lingua ermetica e con le lacrime agli occhi e diede un paio di colpi d'ala che provocarono un mulinello di sterco di gallina e di polvere lunare e una ventata di panico che non pareva di questa terra. Anche se molti pensarono che la sua reazione non fosse stata di rabbia ma di dolore da quel momento si guardarono bene dall'infastidirlo in quanto la maggior parte di loro comprese che la sua non era passività di eroe in ritiro ma di cataclisma in riposo.